AdiConsum Tutti gli anni, con l'arrivo delle denunce a dei redditi, arrivano anche le campagne della donazione del 5 per 1000. Perché devolverli ad AdiConsum? Perché sostenere AdiConsum vuol dire sostenere i propri diritti. AdiConsum è un'associazione di difesa consumatori ed ambiente e in pratica quotidianamente lotta per il riconoscimento dei diritti dei consumatori. Noi vi assistiamo nelle vostre peripezie quotidiane, quali ad esempio telecomunicazioni, assicurazioni, mondo del credito, la gestione di un proprio bilancio familiare. Sostenere AdiConsum con 5 per 1000 vuol dire far valere i propri diritti. I vostri diritti sono la nostra voce. AdiConsum AdiConsum